E' accesa la play eh, cioè vi stai in party con quello Eh ma c'è solo il party, il party non consuma una mazza perché lo sto, lo sto stando onda che l'ha aperto per partire Sì ma mi sono... Oh baffanculo pezzo di... Oh baffanculo pezzo di cacca Mi dico mille volte le cose, non mi ascolta Perché dovrei, dici le puttanate Non mi confondere con altre persone grazie Harry? No ma che c'è il tavolo? No ma per la volta che non mi difiido il tutto Poverito Sai già è sempre o quello che ho a casa però Cassa a me sta tornando un po' Non dico simpatico ancora Cassa io l'ho rivolgata E' più normale Ecco come il jumbo tipo mi insulta No no eh, non è rivalutare cioè Sì vabbè Io te lo chiedo, vuoi un pompa del nonno verde E in più Sì Ok te lo porto Bellissimo sto piccone alto, se c'è chi è i pigliere? E ce li ho i vibugs Tipo 500 quadrati Pietro, 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 bellissimo Te lo porto Te lo porto, città Certo che te lo porto Stavo prendendo un po' di materiali Non è che ci voglio morire come un pollo Quando sono i prossimi TTS su PC? Tra, tra tre mesi Non è, li fanno a metà della season No Cioè in realtà sì Però durano veramente troppo luogo Vabbè sti cazzi Li mettono tipo per una sola settimana Prima del rilascio Dei posti metastati Tutti i TTS li posso riscaricare Anche se non ci sono attivi Vieni con la terra Mi sta facendo male il dito per la rotellina Non è scudone, non lo vuoi? Quindi secondo voi niente cross save, vero? Non è secondo noi Cioè evidentemente no Ok, poi c'è su Valhalla, su Hyper Escape Quegli anni ci sono tutti Cioè su Hyper Escape c'è Hyper Escape è nato già cross save Valhalla Sì ma Non c'è più L'avevano messo Però è pieno di bug e l'hanno tolto Quindi Valhalla non c'è più No no no, c'è ancora No zì, non c'è più Fidati Al fondo sono andato a vedere Io ce l'ho Valhalla E non c'è il cross save attivo Cioè, voglio neppure più di me che c'ho il gioco? Sì Voi L'altro mi ha fatto pure un po' cagare ultimamente questo gioco qua Infatti non l'ho mai finito E mai l'ho più di lungo Adesso un giorno saremo in due Perché poi andrò da fare con la tipa No ma non lo voglio finire Cioè non ho minima intenzione di farlo Sto lì con tutta sincerità Non mi piace Vole tutto tutto che stai facendo Eh, lo sparo si buono in realtà Eh, tutti i mostro ceppetti Mastro ceppetti Dopo il tempo dopo possiamo fare GTA Sono le 7 però Dimmi che non la metrighetta Invece la metrighetta Vabbè le partite sono più così Ma ritrovavamo insieme tutto sto gioco da un bel po' Sì c'è stata E non c'è l'altro Però Cioè poteva andare meglio Cioè poteva andare meglio sinceramente Comunque puoi fare 3000 cose sbagliate A me personalmente Però se ti inizia a ricomportare bene Come si deve Puoi ritrattare Parlo di cassa Si sta comportando bene Decisamente bene Ma io ho ritrattato Cioè lo vedo diversamente Hai trovato delle granate Jumbo? Eh? Hai visto delle granate in giro? No Stiamo in safe Non serve Nonostante vince Ehi per esempio Non gli puoi dire nulla Perché non si tiene niente per sé Sostanzialmente Devi parlare sempre Con gli altri Mi guardo il fatto di ieri Onda Che io esco dal party Ho detto Se entra Seba in party Cioè io con Seba C'ho abbastanza Mezzo litigato Cioè Sì sì No Non ci avevo voglia Di litigare in quel momento Però È un casino Ma perché Ma perché Io voglio capire Perché hai litigato con Seba Perché è insultata Tanto anche Anche ieri stesso Se vuoi poi ti mando anche una clip Non ho problema Non dartela Ma Seba no Quando uno ti inizia a dare del down a caso Per me non ha più Interesso Sì Sì C'ho pure la clip Ho sbagliato pure Ed ora in poi Quando succedono queste cose C'ho le clip Basta Ho tipo in tutto sincero Perché se no Veramente Mi fermo per pazzo Non mi crede nessuno No Sì Passano le stagioni Ma questo non viene Fixato mai Tu la macchina la metti sempre di traverso Ma che c***o 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 Vuol dire Da quando è che quel c***o blocca Allora Mi stanno facendo girare le c***o Guarda Io non fossi in te La lascerei sta macchina Mi sembra un po' impaggata Sì va finita Adesso andiamo a sbattere contro noi Ci troviamo sotto mappa E moriamo Esatto Andiamo a macchina No c'è una c***o 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 Vai avanti un po' Che devo pia le granate Vai un po' avanti Vai un po' avanti Ho capito Non devi gridare Minchia Sei Harry Fermo C'è gente? Oh m***o E' uno solo Ah ok Arrivo Buongiorno Guarda che bella cosina Che ho fatto Guarda che bella cosina Alf Non ti è spaventato Bella raga Lancia gra Arriba un altro Alfa 46 headshot Oddio sei fortissimo C***o Buongiorno Bella raga 33 33 Accaduto Focca lupa Forza Ma guardate Ma c'è un'azio Io non lo so se prenderlo Ce li ho eh Pegchialo 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 Non ho un razzo Ma me lo prendo Tieni Tieni Sono full esplosivo oggi Tanto sono esplosivo oggi Ehm Veramente Non scherzo Sono full esplosivo Gioco meglio senza audio Ma che sto gioco Deve un po' lo gioco Senza audio Ma non so Al fine ci giocano i soldi Su sto gioco E' uno scherzo E' vero E' vero Tipo una tizia Che sta nei feeds Sorda Esatto E' figo il fatto Che comunque Mettono anche queste cose Per chi non può Dio vuoi cacchio Dei polli Li Pure due sono No Pure due sono Ma dove? Polli Venite qua Venite qua Ma quello è un pollo nero Un pollo giù Via Pegchialo Via 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 Ma ho preso il pollo nero Veramente Hai visto? 11 blu ma quante ne ha basta e l'arco l'arco buzzolente che il mio è più forte basta alf mi sono fatto male da solo penso in realtà no perchè io non ho sparato nessuna freccia mi sa che c'è qualcuno eh si che c'è qualcuno non sono io vorrei ben capire dove però no è dove minchia sta perchè mi hai preso la edit oh sto diventando scemo ok in alto sulla guglia dove? sulla guglia al centro aspetta alf tieni 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 lancia lancia vedete cagato le palle ma dove? eh sulla torre lovo tutto sopra madonna sono scendone se vuoi ci sono tre hanno rotti i coglioni mamma ma 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 venite qua vivendo e sono voce lo rampero opposo perchè la puntata di quell'a a guglia li ti stizza ok ok non andiamo a prendere sono fuori safe non ha senso 47 credo è la rara andate qua in AIG 92 è tracciato morto mamma quanto sono solito con pompa del nonno è un altro medikit per cosa no oh no spendi quanto c'è di legno? 500 ti serve? tieni finchia ma ti viene ma perchè li lascia così poco? tienitene ne ho altro oddio ho evitato col lanciarazzi sono matto ok vuole guardia valditino eh capisci dove stavano? dovete aprire qua no madai ma donna che botto questo pollo di merda ma safe tre attimo due ok io comunque ho una vita ridicola voglio dire l'ammerdo non so fare fuori qualcuno l'ammerdo ho trovato delle bende ne ho dovuto fare appena possibile bello ok ciao personale ma io all'arco d'esplosivo l'ho dovuto lasciare per le bende andiamo solo in lanciarazzi bene arriva l'altro eh no buona dieta vetti voi due a dormire è vero andi sono un po' più lontani lì ho addocchiato uno spas sì che l'ho addocchiato bene sad sì figlio oh no si ass e ass Kurt anche ce collez starts « la gestiatburg attrescent Se l'hai filato da solo Proprio 35 all'altro uno l'ho craccato Non quello il tuo, l'altro Uno a terra E' rimasto questo qua da me E' più o meno da me 35 è craccato Il secondo ero Eee Eee Ha fccato Hè se ho toquei Eee 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 Grazie.